Ehi ragazzi io sono Ferini e io sono Stef e questo giochiamo a Fortnite, non è vero stavo scherzando, punto io, che poi in realtà si chiama Zombs Royale, punto io, ma tanto i consolini lo conosceranno, cioè sia per telefono che per browser, quindi lo conoscono al 100%, assolutamente sì, noi volevamo giocare in due, però per telefono è bagatissimo, cioè tipo è impossibile mandare richiesta di amicizia, per browser funziona fare ma me no, e quindi gioca da solo, ma questa fa sempre problemi, e il pc, perché ti scatta, perché ti scatta, perché ti scatta, al telefono non ho problemi loro, c'è un gioco così come fa, al pc non lo so perché mi scatta, Non lo so, non lo voglio neanche sapere, comunque quindi lo proviamo, vediamo un pochettino come va, giochiamo con il nome di Fer e stiamo a vedere, allora è uguale identica a Fortnite qua, ci hai fatto partire Stef, cioè ci ha aperto da solo il loro Twitter, non vi seguiamo su Twitter, no grazie, ok, allora ma come ci si muove in sto gioco Fer e penso quei tasti, ah questi però, no anche con Waz, ok, allora vado, mi butto, sì, dobbiamo cercare subito un'arma, è molto importante, ma al stesso tempo non buttarsi dove c'è troppo Gente, quindi aspettiamo un po', perché se non ti si buttano tutti all'inizio, e più o meno, anche a metà, no, guarda come stanno diminuendo, guarda, 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 perché alcuni sono delle eliche, non lo so, forse hanno tipo il deltaplano figo, eh, può essere, ok, ok, vai, facciamo un sacco di loot, ah, così si scende più in fretta? Sì, sì, scendi più veloce, ok, allora, facendo così, ovviamente, prendiamo le armi, oh, bello, Questa cos'è? Tattico shotgun, ok, perfetto, munizioni, ok, quindi in pratica siamo con un fucile d'assalto e un fucile a pompa, giusto? Eh, sì, esatto, facciamo il sistema, però la golden chest non l'avevo mai trovata, lancia missili, tutto verde, e a cappa, allora, come si cambia, ehm, tu lo sai? No, a me lo chiedi, Steph, non ci ho mai giocato, questo è perché ti distrai, aspetta, pronto, Steph? Quello è uno slurp, poi, bellissimo Bravo, bravo Ma cosa volevi fare? Ma lo scarre, Steph! No No, non entrare, fatti gli appare i tuoi Perché? Ah, perché la finestra Ah, ecco Questo sta a giocare Allo shield Ok, ok, dobbiamo essere più preparati, Steph Non ti danno Non ti danno, allora, rispetto a forne normali non ti danno un attimino di Esatto Di trego e sto ridendo perché guarda le skin, Steph No, c'è roba bellissima Guarda questo E c'è roba bellissima, lo so Quelli di Natale, quindi figurati da quanto gioca No, noi siamo poveri qua Ma dove sono le skin? Dove si sciocca? Eh, c'era tipo la sezione cosmetics, ma non ti interessa Ok Ci manca solo che mi sciocchi pure in sto gioco Sì, mi sciocca una skin bellina Allora Un bel deltaplano Ma, secondo te Noi potevamo aprire l'inventario? Perché un po' mi ha restabilizzato Eh, sicuramente sì Sicuramente sì, Steph Ok Allora Pronto a scendere Vado tipo Eh, vabbè, ma c'è gente sempre ovunque Te l'ho detto Vi dovete calmare Sta finendo la mappa, Steph Devi andare Ok, discesa rapida Non c'è un'arma però Vai, prendiamo l'arma Ok Oh, cavolo, ma Siamo dati dove c'è molto casino È molto Amico Mettiti in mezzo Non possono essere troppo forti Ok, uccide anche l'altro Eh, vabbè, ma cosa tutto Ok Bravissimo, bravissimo Ok Arma viola, ottimo Eh, vai, Steph Ma qua l'hai sentito, Lit? Allora Slurp Credo di sì Ah, sì, in basso a sinistra Eccolo, sì, sì Perfetto E questo è tipo un tactical shotgun viola Eh, sì Però non abbiamo colpi Guarda, quali saranno l'impulso? Eh, boh Forse granate e bar Dice cactus bomb Ah, delle bombe, ok Perfetto Ah, guarda la zona della minimappa Abbiamo già due kill e 33 vivi Quindi pensiamo ad andare in zona Ok Ok, ma mi converrebbe usare il 5 Ma io vorrei che il 5 Ah Allora era facile Ok Oh, Steph, se tu non capisci nulla, scusa Ok, ok Ok, è un cecchino, vero? Ora ci penso a Steph Ok Ah Mentre uccidi qualcuno Dipo Ok Beh, non è proprio un cecchino Vabbè, sì, perché Il gioco è quello che è Però vabbè Ok, però questo ce lo tiriamo al volo No, penso che non puoi Sì Ah 50% Quindi sono gli scillini Non è lo slurp Sì, sì, sì Ok, ok, ok Però esteticamente sembrava lo slurp Eh, esatto Allora Stiamo andando abbastanza bene Vediamo che la troviamo qui al volo Ok 18 vivi, Steph Non male Sì, ma ci servirebbero le munizioni del fucile a pompa Non abbiamo munizioni del fucile a pompa Ok, eh, vabbè, sì, è difficile trovarle Una trappola? Vero? Sì No A posto Cos'era quello? Un portaforte? Eh, può essere Però è una finestra quella Non può entrare, Steph Ah Ecco un portaforte C'è una porta lì sopra Eh, ma paura che poi qualcuno mi prenda le spalle Cos'è? Impulse grenade Ci sono? Ci sono Bellissimi Corri, Steph La zona È velocissima Lo so Ma siamo fatti Ok Tutta a posto Allora, sono pronto col cecchino Lancia la zi L'ho già provato una volta Non posso usare Ma è bellissimo Perché non prenderlo Ok, ok Vai, bravo Dieci missili Allora Dove sono i player? Eccolo lì sotto Vero? Sì C'è nascosto Dov'è? Dove sei? Dove sei? Vieni qua Forse in qualche casa Ma se io faccio Nah, peccato Non si rompe Magari con più un hit Ma non mi sembra Non mi sembra Peccato Ok Comunque caruccio, eh Sì, sì Rappente Beh, perlomeno graficamente è carino Si spara Abbastanza bene Secondo me è caruccio Vai C'è qualcuno? Siete solo sette vivi, Steph È notato Infatti non c'è mai nessuno Por favore Devo sparare Vi prego Silenzio Poi non ho colpi È quello il problema Gas is moving Sì, ma siamo già dentro la zona Quindi non abbiamo grossi problemi Che è? Che è sta roba? Forse è il centro perfetto della zona Può essere Allora noi stiamo qua Così Appena non arriva Non ne sono sicura che funzioni Perché se ti arrivano tutti assieme Un po' Allora Sette vivi Otto secondi Ci dovrebbe essere il momento d'ansia Ma non riesce a venire No Vabbè, certo, certo È proprio Perché è carino Non è di quelli che ti mette ansia Non lo puoi prendere seriamente È troppo carino Esatto Ok, nuova zona Io sto rimanendo al centro delle zone Ma non c'è nessuno Raga Player Raga È piccola la zona Morite Granate Ok Impulse Ok Ah, ci sono anche persone che stanno morendo Eccolo, eccolo Ma questo è straforte Ha pure la skin Che stai facendo? Ok Ha aperto schermate di windows Strane perché clicca ovunque Credo che i consolini abbiano visto Eh, appunto Ok Sto cercando di prenderle da due ore Ho paura Che sembri un albero anche tu Perfetto Esatto Ok, devo recuperare Cosa ho mutato? Il pompa? Eh, mi sei sì Ok, finalmente i colpi Anche una bella arma blu Vabbè Finalmente i colpi Però sono messo male Ho i lanciarazzi Comunque con la viola Se proprio te lo vuoi prendere Beh Facciamo lo stop grade Va Ci sta Ok Provo un hit Va È difficile Eh sì Davvero difficile Ok No vabbè Ma è troppo scomodo È normale che se c'è uno in alto Premo in alto Eh vabbè Stef Anche te però 3 kill Terzo Non male 223 damage Sono andato abbastanza bene Sì dai Ci sta Facciamo tipo così Verso qualche arma Verso qualche Scasola Cassa Ok E poi c'è un'altra lì Oh no Oh no Oh no Ok Ok Sono munizioni paraccio Anche questo suppongo Ma questo è dietente nudo Ah no Ce l'aveva Ce l'aveva E perché non l'ha messo? Perché non ha sparato? Niente Eh vabbè Che bella sta skin Devi morire Solo perché la skin bella Anche quella è bella Quindi lo devi uccidere Stef Sotto sotto Ah vedi che si possono distruggere Le costruzioni Eh Quella è una casetta distrutta Oh l'ho preso Mi sta Oh l'hai preso Sì L'hai ucciso tu L'ha data a te Guarda c'è scritto Sono a 4 kill Fortissimo No non morire Tenendo bene Non puoi perdere ora Di tutti noi Di tutti noi Grande C'è un altro C'è un altro L'ho notato Eh siamo proprio al centro Qui è proprio È la pinnacoli di Come si chiama Zombs Royale Punto io Capito? Era la pinnacoli Non si sa cosa 5 kill Va bene Però è stato divertente Solo 9 Solo 9 Lo so Siamo pochissimi Questo è il nostro match Fere Dai sì Sì per forza Abbiamo Abbastanza vita Abbastanza cheese Due morti Quindi 7 Stef 7 6 forse 6 No Sì Dai maledetti Nascosti Questa cosa è brutta Però è che loro ti vedono Da dentro una casa E tu non li vedi Grande Stef Grande Ok 4 vivi 4 kill Dai Fere Ce la facciamo Cecchino Perché così Vedo più lontano Però odio Quando devo guardare Verso il basso È più scomodo Secondo me Vero Un pochino Sì un pochino Un po' Un po' molto Secondo me Dove si sono cacciati Non lo so C'è stato un bel fight Sì Non so Non so Perché Maledetti No 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 Camperano nelle case È bruttina sta roba È che loro dalle case Ti vedono arrivare Mentre tu non li vedi Vabbè Non c'è il build Quindi se la sono dovuta Gestire in qualche modo Ci sta Ci arrendiamo così Qua sotto di sicuro Compariranno altri video Lasciate tanti like Se ci volete provare In qualche modo A far fare le duo Anche se non so come possiamo sbaggarlo Perché dal telefono C'era quel problema A me non funziona il pc Però ci possiamo provare In qualche modo Se il gioco vi piace Ci fermiamo così Ciao ciao